Cari professori, trovo sempre coraggio di iscrivervi alla fine di ogni ciclo scolastico perché prima mi mettevi in imbarazzo, ora invece trovo le parole giuste per ringraziarvi con questo video. Eccomi qui, a ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me, ma soprattutto per salutarvi dopo tre anni di condivisione, di fatiche e scherzi, di risate e di chiami, di studio e anche di rilassattezza, nonostante il periodo che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Non vi nascondo che ho passato tre anni fantastici e devo dire la verità, all'inizio avevo tanta ma davvero tanta paura. Non sapevo chi aveva incontrato e con chi aveva condiviso questo mio percorso. In un modo particolare voglio ricordare e ringraziare anche l'amata professoressa di musica, Elisabetta Gelino, che ci ha lasciato molto presto. Era la professoressa di tutti noi. Un grazie anche a quei professori che sono stati per un breve periodo e spero che vi arrivi questo video messaggio. Un particolare ringraziamento va, non ad una semplice professoressa, ma ad una persona speciale, lei profisagese, e state in grado di darmi il coraggio giusto per fare delle scelte anche difficili, incoraggiandomi a credere in me stesso. Siete stati tutti come una famiglia, la mia seconda famiglia. Mi avete aiutato a crescere e a capire su cosa avrei dovuto buttare per raggiungere determinati risultati. Siete stati anche inizialmente severi, ma so che lì tetto è stato di scuotermi e di darmi ulteriori possibilità e di tirare fuori meglio di me stesso. Il mio percorso con voi si è concluso nel miglior modo possibile, ma porterò per sempre con me un ricco bagaglio di esperienze e di cultura che mi sarà molto utile nel mio futuro percorso di studi. Mi auguro di trovare anche le scuole superiori, professori come voi, che possono aiutarmi a fare sempre le scelte migliori. Siete stati indispensabili nel fare questo e mai dimetticherò quello che avete fatto per me. Cari professori, ricordatevi che vi voglio bene e grazie per aver arregrato e reso migliore il mio percorso di studi. Vi auguro di incontrare altri alunni che vi possano far amare sempre di più il vostro lavoro. Femmi, Femmi, non può finire così. Ticcia, vi ritevate che mi sarei dimenticato di voi. Lei, prof, che trova sempre un modo per vivacizzare e rendere interessante la lezione. Grazie per aver creduto in me in questi tre anni insieme. Ora sì che può finire.